Comandante, da quando si è insediato lei ha una spina nel fianco, che è il porto rifugio. Ricordo molto bene la prima intervista dal suo insediamento, nel corso della quale affermò che prima di andar via da questo porto, da questo ruolo, da questo mandato così importante, il suo sogno concreto era quello di vedere riaperto e fruibile il porto rifugio di Gela. Ce la faremo? Bene, intanto allora dobbiamo dire che sono stato riconfermato per un ulteriore anno, quindi mi dispiace ma ormai sono cittadino gelese a tutti gli effetti e ne sono onorato. Per quanto riguarda il porto rifugio, più che una spina il porto, è una spina il problema di non poter riuscire a terminare determinate procedure che abbiamo instaurato già due anni fa, come diceva giustamente lei. Però si è aperto un grande spiraglio, e questo devo dirlo quasi in anteprima, in quanto l'ultima riunione che abbiamo fatto in protezione civile, grazie all'ingegnere Foti, poi era presente anche il comune, erano presenti Caltanissetta, autorità e quant'altro, abbiamo stabilito che nel giro di 4-5 mesi al massimo dovrebbero iniziare i lavori di escavazione. Quello che manca è fare la caratterizzazione, anche se penso che non ci dovrebbero essere problemi, visto che ormai la raffineria non crea più nessun tipo di inquinamento o quant'altro, se mai ne abbia creato prima. Quindi in 4-5 mesi finalmente vedremo realizzato il nostro sogno, vedremo finalmente un porto, il nostro bel porto funzionante. La novità assoluta è che non soltanto si escaverà il porto a meno 4 metri, quota 4 metri, ma è previsto l'allungamento del braccio di un centinaio di metri, di modo che non si insabbi più il porto. Un'altra novità importante è che entro il 15 giugno iniziano i lavori per lo smantellamento delle due camere cocche, questa era un'altra spina che avevamo insieme, perché era il benvenuto che mi è stato dato a Gela dalle due camere cocche, che sinceramente non è esaltante, senza nulla vorrei togliere la loro funzione, però come paesaggio devo dire che non è il massimo. Quindi anche questi lavori, c'è stata presentata la richiesta da parte della raffineria, di taglio delle camere per essere trasportati in un altro luogo.